Ragazzi, la mia uova è scosta, facciamo vedere la nostra massa, siamo pronti a ricominciare, tutto il mondo dovrà premare. La 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 no 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 non sarà mai sola, il governo di Roma, porteremo, saliremo, saliremo, saliremo e saliremo, saliremo e saliremo. È la prima vera volta che respiro una presenza così importante per la mia squadra e quindi è difficile anche capire dove mi trovo adesso e quindi dai, speriamo bene, forza Roma! Siamo veramente emozionati, è uno spettacolo, è un sogno, è veramente un sogno vederlo dal vivo. Sono parecchi anni che questa società ha bisogno e deve vincere qualcosa e un popolo così se lo merita, quindi speriamo sia l'uomo adatto. Murigno sotto la culpa, Murigno sotto la culpa, Murigno sotto la culpa, Murigno sotto la culpa! Erano tanti anni che non si respirava un'aria così a Roma, considerando la caratura della persona che viene, forse 20 anni diciamo, sicuramente dal punto di vista degli allenatori sì, quindi sì, molto emozionati. Però il nome che da Murigno porta entusiasmo e quindi siamo qua e vediamo che succede. Siamo fiduciosi.